Abbiamo fatto una delibera aperta, adesso sto vedendo assieme all'assessore Donazan, di identificare in giornata una data che potrebbe essere utile. Ho già un'idea in mente, ma non ve l'annuncio perché poi non vorrei scombinare tutti i piani di tutte le famiglie. Di certo che va verso fine settembre, non verso l'inizio di settembre. L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa da Marghera e subito ha catalizzato l'attenzione di studenti, mondo della scuola e famiglie. Da anni si discute di posticipare l'avvio dell'anno scolastico, stavolta la strada sembra tracciata e segue di poche ore l'appello lanciato dai sindaci dei comuni del litorale Veneto, anche per dare ossigeno a una stagione turistica partita in ritardo. Questo non significa, chiarisce subito Zaia, che le scuole saranno chiuse. Ricordo alle mamme che adesso si alzano in piedi, sono preoccupate di voce, cosa facciamo, i figli eccetera, che a livello scolastico regionale, ringrazio anche la dottoressa Palumbo, è stata prevista la possibilità di entrare, proprio perché comunque abbiamo alle spalle un anno di dad, più di un anno di dad, di frequentare gli istituti per corsi di recupero, attività eccetera, quindi le scuole sono comunque aperte. Ma per una ripartenza effettiva dalla scuola al turismo serve accelerare sulle vaccinazioni, non è solo una questione di disponibilità di vaccino, ma soprattutto di atteggiamenti. C'è un nuovo fenomeno, che molti cittadini hanno deciso di vaccinarsi, ma anche hanno deciso di procrastinare la vaccinazione all'autunno. Fenomeno che ribadisce Zaia non ha nessun fondamento scientifico, anche perché la copertura vaccinale effettiva sia solo dopo due settimane dall'inoculazione della seconda dose. Altro fronte è quello della prevenzione tramite contact tracing, leggi i tamponi. Attualmente se ne fanno 20.000 al giorno, ma l'obiettivo della regione è farne 30.000 per tenere a bada le varianti, da cui la possibilità di rivolgersi ai Covid point in forma libera. Sto facendo appello ai cittadini, da domani possono tranquillamente andare in uno dei Covid point, con accesso diretto, senza ricette, senza niente, semplicemente per, come si può dire, a rispondere a una chiamata di popolo, perché noi abbiamo necessità di monitorare il grado di circolazione del virus. Restano poi le resistenze di sempre, con alcune punte di fantascienza, come chi crede che nel tampone ci sia un microchip. Qui la leggenda diventa cronaca. Vi posso garantire che, io ve lo dico, siamo in estate per una battuta, vi posso garantire che noi abbiamo avuto rifiuti al tampone per questo motivo, anche a scuola, anche a scuola, sì sì, col microchip da parte dei genitori.